Salve, in questa video guida voglio mostrarvi come sistemare le dominanti di colori in una foto utilizzando plugin Camera Raw di Photoshop. Questa è la mia immagine di partenza. Si tratta di un file raw perché quando dobbiamo lavorare sul colore questo è sicuramente il miglior approccio, in quanto nei file raw sono contenute tutte le informazioni sul colore dell'immagine. Questo significa che se vogliamo correggere oppure cambiare il bilanciamento del bianco, possiamo farlo con un risultato identico a quello che avremmo ottenuto se avessimo fatto ciò prima dello scatto. Per questo motivo consiglio sempre di scattare in raw quando si pensa che ci possono essere problemi con il bilanciamento del bianco e con i dominanti di colore. In questa foto c'è un evidente dominante arancione, questo perché il set casalingo con il fiore illuminato da due lampade al tungsteno dà in foto una dominante arancione. Il pannello usato come sfondo invece trovandosi fuori dalla finestra è illuminato dalla luce del giorno che risulta più fredda. Quello che ho ottenuto è un soggetto giallastro con uno sfondo tendente al blu. Vogliamo dare al soggetto un look più naturale e facendo ciò lo sfondo assumerà una colorazione blu intensa, come se per questo avessimo usato un cartoncino colorato per avere un colore più freddo che simuli il cielo. Vedremo quindi come funziona la temperatura del colore e come utilizzare questa caratteristica per creare un mix come questo. Per cominciare sistemiamo la dominante arancione del soggetto, facendo clic con il destro sulla miniatura del file in bridge e scegliendo l'opzione apri in camera raw. Vediamo così portati nella finestra di lavoro del plug-in. Sulla destra vediamo il pannello di controllo con attiva la sezione base, nella cui parte superiore sono presenti i cursori per la regolazione del bilanciamento del bianco. Cliccando sulla casella possiamo scegliere tra una lista di bilanciamento del bianco predefiniti che corrispondono a quelli che si trovano nel menu della fotocamera. Scorriamo tra di essi per vedere quale sia più adatta la nostra foto e alla fine scegliamo tungsteno visto che per illuminare il fiore abbiamo usato due lampade a incandescenza. Il risultato comunque non è perfetto e come possiamo vedere è rimasta una leggera tinta giallastra sui petali. Passiamo allora ai cursori temperatura e tinta. Portando a sinistra il primo rendiamo i colori più freddi mentre spostandolo a destra li scaldiamo. I valori della prima barra possono variare da 50.000 a 2.000 gradi kelvin e nella scala della temperatura dei colori il valore più basso corrisponde ai colori più freddi e quello più alto a quelli più caldi. Regoliamo allora la temperatura fino a quando il risultato ci soddisfa. Con il cursore della tinta invece possiamo ritoccare i colori che vanno dal verde al magenta quindi spostando il cursore a sinistra eliminiamo le dominanti magenta mentre spostandolo a destra compensiamo quelle verdi. Per questa foto un valore della tinta attorno a più 17 si combina bene con un valore della temperatura pari a 2.900 ma se vogliamo rendere intenzionalmente un po' più freddi i colori dell'immagine possiamo spostare ancora a sinistra il cursore della temperatura magari fino a 2.500. Bene è possibile sistemare i colori della nostra foto anche utilizzando lo strumento bilanciamento del bianco che si trova in alto a sinistra nell'area di lavoro. Questo strumento è più veloce ed efficace rispetto al metodo precedente a patto di trovare nell'immagine un punto con un colore che in realtà sia perfettamente neutro e quindi farci clic sopra con il contagocce dello strumento. Facciamo allora clic in qualche punto del fiore controllando i valori che si trovano subito sotto l'istogramma. Come vediamo non è facile trovare il punto giusto e ogni volta che facciamo clic in un punto i colori di tutta la foto vengono rimappati in base ai dati che abbiamo raccolto. Continuiamo a cercare fino a quando troviamo il bilanciamento corretto. Per aiutarci possiamo creare una selezione trascinando il contagocce su un'area dell'immagine che pensiamo possa essere neutra campionando così un maggior numero di dati in modo che lo strumento possa darci un risultato più equilibrato rispetto a quello elaborato sui dati di un singolo punto. Per quello che riguarda le dominanti possiamo ritenerci soddisfatti quindi regoliamo alcuni parametri del pannello di destra come l'esposizione, il contrasto, la chiarezza e la sottorazione così da conferire maggior impatto al nostro fiore. Il plugin Camera Roci offre altri strumenti che possiamo utilizzare per regolare il bilanciamento del bianco in modo selettivo come il pennello di regolazione, il filtro graduato o il filtro radiale per esempio creando un'area più fredda rispetto al resto dell'immagine. Prendiamo il filtro radiale e facciamo clic al centro della foto in modo da realizzare un elissi che comprenda il fiore e i boccioli. Ora spostiamo il cursore della temperatura a sinistra per rendere più o meno fredda la zona all'interno dell'elissi. Questo metodo è valido quando al momento dello scatto abbiamo un'illuminazione mista, naturale e artificiale come nel nostro caso. Infatti il soggetto all'interno ha una colorazione più calda rispetto allo sfondo che si trova fuori sotto la luce naturale e con il filtro radiale possiamo lavorare in modo mirato. Anche con il filtro graduato possiamo intervenire sulla temperatura dei colori, per esempio portiamo a sinistra il cursore della temperatura di questo strumento, quindi applichiamo a una parte della foto questa regolazione per rendere più blu lo sfondo. In camera RAW è possibile fare un confronto del tipo prima e dopo cliccando sui pulsanti in basso a destra che dividono l'area immagine in due parti, una con l'immagine di partenza e una con quella modificata. Continuando a cliccare su quel pulsante possiamo cambiare il layout di visualizzazione in diversi modi. Bene, con questa veloce introduzione al bilanciamento del bianco in camera RAW abbiamo visto come utilizzare i suoi controlli per eliminare le dominanti e trovare un corretto bilanciamento del bianco. Arrivederci.